Vedute lacustri, angoli di memoria nella quale rivive tra vie e piazze la storia bustocca, fiori rubati alla natura e gli immancabili paesaggi dedicati al Ticino. Sono i racconti dell'artista Rocco Preite, opere esposte nella 91esima personale allestita nella sala d'arte del santuario Santa Maria di Gusto Ersizio fino al 24 novembre. Una tavolozza dove il colore anima il racconto attribuendogli identità e spessore. L'artista riprende la natura nelle sfumature dei suoi quattro abiti, la delicatezza delle acque, dei cieli e delle nebbie, una bellezza accolta ed estrapolata dalle maglie dell'apparente quotidianità. La gamma degli azzurri, verdi e rosa, è declinata tra i toni della terra, dove il bianco irrompe il rumoroso, forte di luce, quasi fosse una presenza. Quelli di Preite sono colori che non hanno nomi identificabili, sfumature che solo l'emozione dell'artista riesce a creare, rendendo unico il suo stile. Nelle vedute del Ticino Preite vive il fiume, lo indaga, lo spia, rappresentandolo con velature sottili, stese delicatamente, pennellate e tocchi lievi, quasi accogliere e fermare nell'opera a momenti irripetibili, i profumi raggi del sole riflessi nell'acqua, il movimento del fiume e il soffio sottile del vento. Il mio grande amore è il Ticino, che senza dubbio è il primo amore, è dove io quando vado sul Ticino mi trovo a casa, il mio mondo, è dove io dipingo e non abbiamo bisogno di parlarci, ci conosciamo talmente bene che uno entra nell'altro tranquillamente. La mostra negli spazi espositivi di Piazza Santa Maria è aperta al pubblico giovedì e venerdì 16.30-19, sabato e domenica 10.30-12.30-16.19.